Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora trovo lo sprint per fare questo video anche se credete mi sto malissimo Però ve l'avevo promesso di farvi vedere tutti i regalini Scusate, me lo disavvediamo, ormai sono talmente enorme che non mi va più nulla Tutto si apre, quindi vabbè Comunque, vi avevo promesso di farvi vedere tutti i regalini che ha ricevuto Baby Al Baby Show che abbiamo fatto Se mi seguite su Instagram, già lo sapete, abbiamo fatto questa bellissima festa Se ancora non mi seguite, seguitemi Anche perché là vi darò aggiornamenti in tempo reale Come sempre, là saprete tutto e sapete di quello che sta succedendo in questi giorni Infatti, dopo l'ultimo video che avevo detto rottura delle acque eccetera Poi vi ho aggiornato un pochino su Instagram di quello che è successo E ci tenevo comunque a dirvelo anche qua Anche per sommi capi, insomma non mi piace entrare nel dettaglio di queste cose Anche perché ci sono anche persone che si schifano, no? Fra virgolette, comunque sono cose delicate, insomma anche personali Però comunque mi hanno detto che non era una rottura Ma era un fenomeno molto simile che spesso si può confondere Che si chiama micro-orrea gravidica Quindi vabbè, cercate su Google, informatevi eccetera Comunque io da quel momento ho tantissimi dolori Dolori tipo ciclo, dolori come se dovesse andare di corpo Comunque ho tanti dolori e mi sento stanchissima Comunque quindi penso che manchi proprio pochissimo Quindi seguitemi su Instagram dove vi dirò Vi darò aggiornamenti in tempo reale Qualsiasi cosa succederà la saprete prima su Instagram Quindi come al solito vi trovate come carità dolce Seguitemi lì E vi volevo far vedere tutti i regali di baby Ma vi volevo anche mostrare qualche novità Che abbiamo inserito su caritashop.com Perché so che vi va sempre a piacere Me lo chiedete sempre in tantissime Non ho tanto tempo per farvi tanti video Quindi cerco di accorpare qua tutto Abbiamo delle novità che sono fantastiche Di Eteria, di Alchemilla in particolare Di Saponaria Tante di queste novità sono scontate Ad esempio Alchemilla tutto scontato al 20% Saponaria anche tutto scontato Quindi approfittate adesso Perché poi li trovate nella categoria novità E non page Approfittate perché gli sconti durano comunque pochissimi giorni E sono novità stupende Veramente che mi entusiasmano un sacco Quindi ve ne volevo parlare Allora innanzitutto Ci sono tutti i nuovi prodotti di Eteria Che sono fantastici I sieri, questo qua 24 carati Questo l'impolpante concentrato Comunque sono tantissimi prodotti Adesso caso mai ve li mostro da vicino così Ve li faccio vedere meglio Ragazzi allora come potete vedere Queste sono le novità Eteria Questa è la crema corpo Alla bava di lumaca Che noi già abbiamo le creme per il viso Adesso abbiamo inserito questa per il corpo Che è una novità pazzesca Perché è super super nutriente E elasticizzante Quindi rassodante E fa anche un leggero peeling Quindi anche per le smagliature sul corpo è ottima E poi è super super leggera Ragazzi è una consistenza che subito si assorbe Io amo tutta questa linea E' una bava di lumaca Poi questi qua che sono i sieri Vengono in questi contenitori Vedete Questo è quello dorato Con le perle proprio di oro 24 carati E' fantastico ragazze E questo qua invece è quello concentrato Multi active booster E' favoloso perché lo potete utilizzare O da solo Contiene di tutto Acido galuronico Collagene, vitamine Di tutto Lo potete anche inserire nelle creme Ha un effetto super rimpolpante Rassodante per la pelle E' veramente miracoloso Anche per problemi tipo imperfezioni Eccetera Poi c'è tutta la linea appunto Della detergenza Della detergenza Il tonico Che è ottimo contro i pori dilatati La pelle grassa E' buonissimo Della linea lux Che vi piaceva tanto Già avevo mostrato altri prodotti Questo qua Che è appunto lo struccante Che è buonissimo E strucca tutto il trucco Sia dal viso che dagli occhi E la mousse detergente Quindi la mousse La schiuma per lavare il viso Quindi top Le creme già c'erano C'era il siero Se vi ruotate c'è tutto di questa linea Quindi potete farvi tutta la routine La chicca è questa qua Già ho buttato la scatola Già l'ho utilizzato E' ottimo Il pannuccio Vedete è microfibra Questo serve proprio per struccarsi E anche per rimuovere le maschere Trattamenti dal viso Se fate l'ordine Prendetelo Perché è veramente morbidissimo E buonissimo Comunque vi metto tutti i link Dei nuovi prodotti Nel box informazione sotto E così subito li trovate Comunque tutte le novità Le trovate nella categoria Novità Su caritashop.com Mi viene da ridere Perché mi sto stancando un sacco E l'altra volta Dopo l'ultimo video Mukbang Si è successo che Appunto ho avuto Questa perdita di acqua Una pseudo rottura delle acque Penso che dopo questo video Appena spegnerò la videocamera Andrò a partorire Secondo me Perché ormai è una routine Che dopo il video che faccio Succede sempre qualcosa Vabbè Comunque Le novità Le ho messe tutte qua Con l'aiuto del mio amore Che mi ha aiutato Sono tantissime e bellissime Alchemilla Sono tutte queste E questo è tutto saponaria Sono favolose Allora Di Alchemilla In primis le tinte Raga Una cosa troppo troppo strepitosa Guardate quante ne sono Ci sono di tutti i colori E appunto c'è Varie gradazioni di biondo Varie gradazioni di rosso Castano Guardate questo come è figo Di nero Rame Ce ne sono di tutti i colori E sono tinte naturali Quindi senza quelle sostanze Che vanno a danneggiare i capelli Però sono composte Uguali Come le tinte Diciamo Normali Quelle che si compro dappertutto C'è dentro Vi faccio vedere cosa c'è C'è la crema colorante Per capelli C'è questo qua Che appunto è l'applicatore Con il latte attivatore Che si va a miscelare Poi c'è Il foglietto Delle illustrazioni Che quindi E comunque è semplicissimo E poi ci sono Le bustine Figata Eccole qua Vedete Di balsamo ristrutturante E shampoo Che quindi potete utilizzare Appunto Dopo aver utilizzato La tinta Quindi super figata Anche il prezzo è bassissimo E soprattutto adesso Sono scontate al 20% Io ho detto Quindi approfittate Comunque i colori Sono stupendi Ragazze Poi come novità Ci sono queste qua Che ragazzi Io sono impazzita Quando le ho viste Le fiale per capelli Adoro Guardate qua Proprio le fiale per capelli Questi prodotti Sono tutti naturali e biologici Però hanno raggiunto Dei risultati Veramente super super Avanzati Cioè le fiale Ristrutturanti Anticaduta Che favoriscono Anche la crescita Quindi sia per contrastare La caduta Sia per favorire la crescita Fanno bene a tutti Sia che voi abbiate No problemi di caduta Soprattutto adesso Nel cambio stagione Autunno Si perdono un sacco di capelli Quindi ve le straconsiglio E ci sono anche Quelle purificanti Antiforfora Stessa cosa Sempre fiale Però queste qua Servono per Per chi ha i capelli grassi La forfora Capelli che si sporcano subito Sono wow Ragazzi Sono fenomenali E poi ci sono Gli shampoo Il purificante Che potete abbinare Appunto A quelle fiale Che appunto È specifico Per capelli grassi Che si sporcano subito Eccetera E lo shampoo Invece Tratante per lavaggi Fra frequenti Che invece va bene per tutti Uno shampoo Che va comunque A rinforzare i capelli E a comunque A renderli lucidi Brillanti Comunque a tanti estratti Bionaturali E poi ci sono Questo qua E lo shampoo rinforzante Che è anticaduta Specifico Da abbinare appunto Alle fiale Quindi vi consiglio Questi qua Di prenderli insieme E anche la maschera Questo è tutto il trattamento Vedete insieme La maschera rinforzante Anticaduta Che favorisce La crescita dei capelli E questo qua Invece È quello che va Con questo qua Quindi questo Vanno insieme Le fiale purificanti Lo shampoo E la maschera purificante Antiforfa Quindi per capelli grassi Quindi La figata Di avere un balsamo O comunque una maschera Specifico per capelli grassi Che quindi li va proprio A rendere morbidi Fluenti Senza appesantirli Ed elimina appunto L'unto Fa durare la piega Più a lungo Eccetera E poi ci sono Tutte le creme mani Ragazzi Queste le dovete provare Tutte Hanno delle profumazioni Pazzesche Mirtillo Ribes nero Vitebisco Liquizia Ananas Buonissimo Ginkgo biloba Comunque sono favolose E della stessa profumazione C'è anche Bagno doccia E crema corpo Raga Questi sono Stupendi Come al solito Costano pochissimo Sono veramente Belli Vi consiglio di prendere Ovviamente il bagno doccia Abbinato al latte corpo Il bagno doccia Fa una bella schioma Profumatissima Hanno dei profumi Bellissimi E il latte corpo Idrata tanto Però è molto leggero Quindi come piace a me Non unge la pelle Quindi Questi qua Sono veramente Da provare tutti Ci sono tantissime profumazioni Bellissime Quindi E tutti con estratti Naturali E bio Saponaria Invece Eccoli qua Lì c'è il mio amore Ciao amore Grazie la mano Ciao Ciao Qui ci sono tutti i prodotti Della saponaria Che anche sono fighissimi Tutti per capelli Quindi ragazzi Abbiamo l'imbarazzo E la scelta per capelli Wow Non abbiamo proprio Scusi C'è di tutto Allora Inanzitutto Spenti Trattati Eccetera Una maschera Ristrutturante Quindi per capelli Sfibrati Secchi Eccetera Poi ci sono i due Shampi Questi li dovete provare Questi sono Shampi solidi Sono favolosi Veramente Questa è L'innovazione Questo prendetelo Se avete i capelli grassi Oppure se avete prurito Se avete la forfora È favoloso E questo invece Rinforzante Lenitivo Va bene per tutti Perché comunque Ha un effetto idratante Sui capelli Li rende comunque Belli Lucidi E brillanti Poi c'è lo scrub Del cuo capelluto Che è favoloso Questo vi consiglio Di farlo Una volta a settimana O due volte a settimana Se avete i capelli grassi È purificante E stimolante Quindi si stimola La crescita dei capelli E purifica il cuo capelluto Quindi apporta Più nutimento Al bulbo Li lascia più puliti Più brillanti Più a lungo Poi c'è Ci sono i cristalli liquidi Questi Figata ragazzi Questi qua sono Cristalli liquidi Illuminanti Anticrispo Che quindi Sono a base A base di semi di lino Argan Cocco Canapa E vanno appunto A togliere l'effetto crispo A nutrire le punte secche E spezzate Favolosi Li potete asciugare Li potete mettere Sia sui capelli Bagnati Che asciutti E poi Dulcis in fondo La crema Ravivarici Evviva Questa è la crema Appunto A base Tutti questi prodotti Sono a base Di prebiotici Naturali A base Di ingredienti Naturali Sono favolosi Questo serve Proprio per Modellare I ricci Togliere L'effetto Anticrispo Vedete L'effetto Crespo E avere Dei ricci Modellati Lucenti Senza appesantire Comunque la dovete provare Raga È favolosa Perché è molto meglio Dei gel La crema Perché li vanno Anche a nutrire Non li appesantisce E non li indurisce Quindi top E poi ci sono queste qua Che invece sono Le lozioni Prebiotiche Cioè praticamente Sono lozioni Che servono Per Rinforzare Questo qua Vedete Sono sempre Tipo le fialette Che vi ho fatto vedere Prima Questo qua Serve per Un'azione rinforzante Tratante Si va a utilizzare Appunto Si fanno tipo Di impacchi Sui capelli E questo qua Invece è antiforfora Quindi sebo regolatrice Quindi perché ha Capelli grassi Che si sporcano subito Eccetera Quindi Veramente Veramente Ci avete Delle chicche Ma delle chicche Assurde Quindi Io vi aspetto Su caritashop.com Vi ripeto Sono tutti scontati Quindi approfittate E vi metto Tutti i link Nel box Informazione Sotto Mi amore Mi aiuterà A mostrarvi Tutte le cose Allora Cosa abbiamo qui E amore Come faccio ad alzarlo Scusa Lo metti qua Vabbè Questo Non ve lo possiamo Può vedere Montato Perché Lo devi un po' alzare Non si vede Non si vede Nella telecamera Comunque Questo qua Praticamente Un lettino Da campeggio Che è bellissimo Però Lo dobbiamo Lo dobbiamo Montare E non abbiamo avuto Il tempo Quindi però È molto molto utile Sia per viaggiare Sia comunque Se avete la casa A due piani Magari lo mettete giù Perché comunque La culla ce l'avete sopra È molto molto carino Ovviamente Ringraziamo tutte le persone Che hanno fatto questi regali Tutti i nostri amici E parenti Perché Veramente Sono stati regali Bellissimi E gli ultimi Due o tre Sono sopra Che abbiamo montato Ve li farò vedere Alla fine Che sono Bellissimi E li abbiamo montati già Poi Allora Questo qua A good night stars Questo praticamente È tipo Un giochino Che produce Una musica E dei E dei colori Che vanno A conciliare Il sonno Del bimbo È vero Sviluppa La sensibilità musicale Sviluppa Le capacità visive E si può utilizzare Proprio da 2 mesi in poi È troppo carino È della chicco Non vedo l'ora Poi tutte queste cose Di venderle in funzione Ok Poi questo Che cos'è Allora Questo qua invece Ah Questo è Questo anche utile Questo è un porta Biberon E vivande Termico Ed è appunto Serve appunto Per portare Sia il biberon Che le pappe È molto Molto Sono quelle cose Che veramente Ti servono Un sacco Quindi Veramente Ve lo faccio vedere Sempre della chicco E comunque Dentro poi ci sono Si mettono le cose Comunque È super super utile Quindi queste cose Servono E abbiamo questa Che è troppo carina Vero amore Troppo carina Non vedo l'ora Di vedere baby All'opera con questa Questa qua Praticamente È una Palestrina Perché i nostri amici Sanno che noi siamo Fit E quindi anche baby Deve essere fit Ci hanno regalato Questa qua Che è troppo carina È una palestrina Appunto dove Il bimbo Vedete Si mette sopra Ci sono tutti I giochini Anche questa qua Si può utilizzare Da zero Mese in poi Fatemi sapere Voi se avete Qualcuno Di questi Prodotti Come vi trovate Scusate C'è questo Lembo di luce Che ovviamente Entra alla finestra Però non Non ce la faccio A cambiare tutto Sono stanchissima Vi ho detto C'ho tanto dolore Allora Poi questa qua È una bilancia digitale Che anche ci servirà Tantissimo Appunto Per pesare I Perplessi Di baby Ed è molto Fornita Con un sacco Di funzioni Questo L'ho fatto vedere No Eh dammelo Anche questa Ok prima questa Questa qua È una cosa Anche molto utile Lo sterilizzatore Della chicco Tre in uno Questo qua Ce l'hanno regalato Due nostri amici Che Sono Hanno avuto Una buonissima idea Perché questo Serve tantissimo Appunto Per sterilizzare Tutte le cose Tutti i biberon Tutte le cosine Quindi Super super top Utilissimo Poi Questo Questo Allora Questo qua È il cuoci pappa Questo qua Anche mi serviva Sicuramente Lo userò tantissimo Perché dentro Si cuociono tutte le pappe Quindi vedete Si può mettere il riso La frutta Le verdure Tutto E appunto Si cuoce Fianco Dice C'è anche Ci sono anche I tre contenitori Portapappa Quindi Grazie Regali stupendi Questo l'ho Vi ho fatto vedere No Ok allora Poi questo qua Questo è un'altra Cosina Che si chiama Frist Dreams Giostrina Maggi di Stelle Questo è troppo carino Scusate Dario Ha andato un po' Di calci Nel callet Vi è venuto Il martimare Comunque Questo qua È tipo Una giostina Che serve appunto Per conciliare il sonno Si vede che vogliamo Che dormi Che baby dormi Giorno e notte E ci faccia dormire È praticamente Troppo carino E serve appunto Per Vedete Fa la musica Vedete Qui Riuscite a bere Comunque È troppo carino Non vedo l'ora Di Utilizzarlo Bellissimo 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 Guardate Da qui anche si vede Che bello 18 minuti addirittura Di melodie Bello Ok Qui abbiamo Altri regalini carini Della disney Questo è carinissimo Ed è praticamente Un completino Di Mickey Mouse Di spazzolina Che è la spazzolina E il pettinino Adoro Bellissimo E poi C'era anche Ci sono tutti i bigliettini Che noi abbiamo Conservato C'era anche il palloncino Facciamolo vedere E questo qua Che invece È una spillettina Che è troppo bellina Questa qua Per mettere il ciuccio Sempre di Mickey Mouse Che noi adoriamo Topolino E poi c'era anche Questo palloncino Appunto di baby Troppo bello Grazie Poi Questa qua Una fantastica coperta Che mi ha fatto Mia zia È bellissima Questa coperta Ragazze È fatta a mano Di lana E c'ha tutte le Il merletto Vedete che viene così E al centro C'ha questo disegno Bellissimo È un orsetto Con la macchinina Comunque È stupenda Questa coperta Veramente Veramente Bella Adoro Poi cos'altro c'è Amore che mi passa le cose Allora Qua cosa c'è Ah questo è stupendo Ha portato questo qua E ha regalato Un suo pupazzo Al cuginetto E ha detto Perché lui deve avere Tanti pupazzi E ha regalato Questo qua che è suo La fragola Bellissima Vero? Troppo carina Poi Ciao Se non la fragola Qua abbiamo Qua abbiamo Allora Questo qua Il portaciuccio Con l'orsetto Sempre carinissimo E un'altra Spillina Per il Il ciucciottino Queste sono utilissime Poi anche le state Le piacciono un sacco Ok E poi c'è questo Questo è caduto Dal bigliettino Qua cosa c'è Bigliettino Ah ok E i bigliettini Noi abbiamo Concevato tutti i bigliettini Qua c'è La busta Vabbè Qua c'era una busta Col bigliettino E poi c'era Questo qua Che praticamente Sono dei Bavaglini Cosa sono? Principino Sopra c'è scritto Principino Troppo bellino Bavaglini Adoro Questo è un altro regalo Stupendo Un altro regalo Stupendo In questo sacco Bellissimo C'è questo qua Che è troppo carino Questo qua Serve Eh? Il gufetto Il gufetto Serve sempre Per far addormentare Il bimbo Ed è appunto Un Un giochino Che si Che suona Fa tante cose Infatti Come lo devo studiare meglio Comunque Molto molto carino Si chiama Bubzi Serve appunto Per far addormentare Il bambino Suona Fa tante melodie È bello È una bella cosa Quindi non vedo l'ora Di provarlo Vero pupi Anche pupi Anche pupi Sì è bello È bello È bello Ti piace? Ragazzi Questa è la stanza Di baby Che ancora Non è finita Il rimbub Che l'abbiamo Tutta verniciata Di azzurro E qua ci sono altri due regali Che abbiamo già montato Vi volevo far vedere Questo è bellissimo Ed è un box Stupendo Ragazzi Veramente stupendo Dove dentro ci sono C'è anche l'orso Guardate quanto è bello Veramente bellissimo E adoro È bello Un po' ingombrante Però questo qua Noi lo possiamo Anche chiudere Quindi è molto facile Da chiudere E lo conserviamo Per quando comunque Ovviamente si farà più grande E invece Questa qua è per ora Questa è la colletta Che appunto Va vicino al letto Quindi questa qua In realtà La monteremo Nella camera da letto Perché questa qua Si apre E si va Si proprio Si monta vicino al letto Quindi Io potrò Comunque Allattarlo Comunque tenerlo Vicino a me Senza metterlo nel letto Insomma Lavendolo accanto a me Ed è bellissima È super super utile Poi in questa stanza Metteremo anche Stiamo aspettando Che arrivino Perché qua Dobbiamo mettere Dobbiamo mettere Abbiamo preso L'armadio Abbiamo preso Il fasciatoio Con appunto I cassetti E abbiamo preso La culla Quella proprio tradizionale Grande In cui comunque I primi mesi Non dormirà lì In questa stanza Ovviamente Dormirà qui Nella nostra stanza Quindi ragazzi Questo è tutto Spero che questi Regali vi abbiano fatto piacere Che questo video Vi abbia fatto piacere Mi raccomando Grazie Mi raccomando Seguitemi su Instagram Perché io penso Ci manchi veramente pochissimo E su Instagram Vi do tutti gli aggiornamenti In tempo reale Quindi seguitemi Carita dolce Su Instagram E vi aspetto Anche su carita show Appunto Con i vostri ordini Tutte quelle novità Stupende Che vi ho fatto vedere E viva baby Anche il cielo azzurro Perché guarda baby Guarda Guarda che bel cielo azzurro Ciao Lasciate un pollice in su al video Ciao